io do il benvenuto a Sabrina Panella, Maderita Cappucci e Giacomo Mammarella, benvenuti ai nostri microfoni. Grazie. Ciao. Ciao ragazzi, tutto bene? Tutto bene. Benissimo, benissimo. Bene. Allora, va bene, iniziamo, siete pronti? Prontissimi. Pronti. Allora, io vorrei sapere subito e far sapere ai nostri ascoltatori eh come nasce eh Blue Team Club di Pavona, se no mi strillano e quando nasce? Raccontateci un po' la storia. Guarda, nasce nel lontanissimo millenovecentonovantasette mantiamo più di venti anni di attività, da un'idea di mezzì Paolo e Francesca che con dedizione hanno dedicato gran parte del loro tempo allo sport e in generale nello specifico nel carave, ecco nasce nasce per quello. Va bene, invece ci sono tante altre attività, siete cresciuti nel tempo eh quante attività ci sono? Guarda, tra ginnastica dolce, fitness in generale, arti marziali, salapesi e salsa e balli di gruppo abbiamo all'incirca una ventina, venticinque discipline diverse e abbiamo un settore dedicato completamente alla danza. Danza ossia di che genere? Allora, per quanto riguarda la danza abbiamo danza moderna, video dance, danze orientali e hip hop, salsa cubana e balli di gruppo. Io invece insegno video dance e che è una disciplina molto simile all'hip hop, in America si chiama street jazz, quindi è un insieme di hip hop e jazz, danza moderna e in Italia appunto si chiama video dance e si ispira un po' ai video di Rihanna, Beyoncé, Justin Timberlake, questo tipo di... è un hip hop un po' più commerciale se vogliamo dire. Allora, Maria Rita fa video dance, invece Sabrina? Io mi occupo di danze orientali che è una disciplina veramente molto antica in realtà perché nasce nelle corti principesche del Medio Oriente insomma. Chissà perché il nome? Tu c'hai mai pensato? Lo sospettavano, appena appena lo sospettavano. Eh ma in realtà nasce in Egitto ma adesso si è diffusa moltissimo in Occidente e anche in Russia e in America Latina tantissimo, quindi diciamo negli anni si è evoluta, ad oggi si è fusa anche con moltissime altre discipline ed è diventata una disciplina accessibile sia alle grandi ma anche alle bambine più piccole. Tu hai piccole allieve? Io ho allieve di media età diciamo, quindi sia ragazze che adulte principalmente, però è il nostro intento aprire anche un corso per bambine prossimamente. Tutti da conoscere, quindi hanno un sacco di attività, quindi hanno anche la sauna, lo so, c'è la sauna. Allora per quanto riguarda la modestia, adesso mi viene in mente che quest'anno abbiamo ben tre ragazzini, diciamo bambini di karate che sono tutti e tre campioni italiani. Non faccio il nome perché comunque sia sono piccoli e minorenni e non abbiamo di benestare dei genitori, quindi non mi permetto, però abbiamo tre bambini che sono campioni italiani per il lavoro bellissimo che fanno tra l'altro Paolo, Matteo e Francesca con i bambini di karate e dei risultati fantastici. Anche con Kung Fu, però con karate specialmente. Va bene, quindi non resta che dire ai nostri ascoltatori dove siete, perché abbiamo detto che siete tutti molto belli e interessanti, che fate un sacco di cose, che ci sono oltre 700 soci, che siete meravigliosi e che quindi dove siete? Via Perugia 7, pavona di Albano Laziale. Olè! Olè! A SD Blue Team Club li trovate anche su Facebook con quelle facce. Esatto! Queste facce qui? Esatto, mettete un bel like, condividete anche il video, fateli guardare, fateli conoscere, conoscetevi. Insomma, fate un po' come volete. a trovarci, vi offriamo anche un caffè. Certo! Vabbè, allora passo. Sì, sì. Il caffè più buono dei caffè per tutti. Sì, il caffè più buono dei castelli, tra l'altro. Eh, certo. Ovviamente. Ovviamente il bar all'angolo. Non potrebbe essere altrimenti. Il bar all'angolo non esiste più. Il bar all'angolo non esiste più. Ha chiuso. No, ma lì si paga, da noi è gratis. Comunque questa cosa che a Pavona ci siano solamente bar, parrucchieri, incredibile. E solari. Esatto, estetiste, sì sì. Ma bar, cioè bar aprono in continuazione. Però c'è il passaggio a livello, eh. Non ce lo dimentichiamo. Quello è fondamentale. C'è solo quello, bar e parrucchieri. C'è pure che babbaro. Aspetta, in tutto questo, diciamo, deserto desolante, poi c'è questa realtà, questa isola felice. All'interno di via Perugia, dove c'è blu. Esatto. C'è la migliore amica di Saracol, che ha Crisina Cugler. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao Riccardo, ciao a tutti e due. Tra l'altro mi ricordavo nome e cognome, 700 soci, è tutto in testa. È meraviglioso. Sì, sì. Non poteva essere altrimenti. Quindi anche Stefania Giammarone, ti ricordi che veniva con Alessio? Assolutamente sì, non mi è cognome di tutti. Nel 98, vi sembra. Iscrizione trimestrale. Sì, sì. Nel 98 Alessio aveva due anni, complimenti. Iscrizione trimestrale. Va bene. Ecco, 99 erano, tre anni. Va bene, allora, abbiamo detto che siete in via Perugia, numero 7 di Paona, di Albano Laziale, vi chiamate SD Blue Team Club e niente, c'è un numero che vogliamo lasciare? Sì, perché no? Il nostro numero di telefono al quale risponderò io, che è 0693-12-527. Noi siamo aperti dalla mattina alle 9.30, alla sera alle 22.30, dalla lunedì al venerdì. Siamo aperti anche il sabato mattina. Venite a trovarci. Caricato. Troverete anche Marilita e Sabrina. Sempre per sempre. Sempre, sempre, sempre. Io vi offro il caffè, loro ve lo servono. Questo è veramente poco, quello che vedi è veramente poco. Il nostro clima, sempre così. SD Blue Team Club, tutti, ringrazio voi tre. Grazie a voi, grazie a voi. Buonanotte.